Buongiorno, Mobile Meeting and Exhibition qui a Milano, terza edizione, siamo allo stand di Life 365, siamo in compagnia di Francesco Pagano che è responsabile della divisione mobile dell'azienda. Francesco, chi è Life 365? Allora, Life 365 è un'azienda in forte sviluppo, nata circa dieci anni fa e che promuove vari brand internazionali sul mercato italiano. In questo caso siamo qui a presentare il marchio Devia, che è un famoso brand asiatico che produce dei prodotti di alta qualità a dei prezzi molto convenienti, che poi è il nostro tipo di business in questo momento sulla telefonia. Volevo farvi vedere alcuni prodotti, parliamo di cover Swarovski, certificato Swarovski con cristalli Swarovski all'interno, il brand si presenta molto bene, è prodotto e prodotto con materiali atossici controllati dalla buyer, la qualità che devia è una cosa su cui punta molto. Life 365 è un'azienda multisettore, tratta diverse linee di prodotto, tra cui informatica, tra cui toner e cartucce compatibili, abbiamo sicurezza, abbiamo diversi rami. La missione dell'azienda è quella di sviluppare i brand internazionali, in questo caso soprattutto asiatici, nel mercato italiano, in quanto il governo cinese in questo momento sta promuovendo tutti i brand più importanti a espandersi con il loro marchio in Europa e noi seguiamo questo trend. Francesco, tu ci hai fatto vedere questo di Swarovski, quali sono quindi le altre novità che devia porta in Italia? Per quanto riguarda il settore dello sport, abbiamo un marsupio con una pellicola touch per telefoni a tenuta stagna, un supporto con borsello per biciclette e motori anche, sono dei prodotti molto interessanti, costruiti molto bene. Che fanno sì che possiamo portare sempre lo smartphone, il dispositivo con noi proteggendolo naturalmente. Proteggendolo chiaramente dalla pioggia eccetera. Quindi diciamo che l'accento di devia è sia sul design, che Swarovski qui lo testimonia, ma anche la funzionalità, la praticità d'uso e la resistenza. E la resistenza, non ultimo i prezzi che sono molto convenienti. I prezzi molto convenienti, è un prodotto che troviamo in giro per il mondo, lo troviamo in parecchie attività, tipo gli i-store, hanno molto prodotto devia in quanto è ritenuto un prodotto di buona qualità, di ottima qualità. Quindi abbiamo parlato dell'azienda, abbiamo parlato dei prodotti, parliamo ora di come proporli sul mercato e come far sì che questi prodotti abbiano il meritato successo. Quali sono quindi le strategie e le iniziative di canale che Life 365 metrà in atto nei prossimi mesi? Nei prossimi mesi abbiamo iniziato una rete commerciale abbastanza capillare dove proponiamo a negozi del settore e distributori del settore i nostri brand. La nostra forza è avere disponibilità di merce continua, prezzi molto interessanti e soprattutto siamo un'azienda molto flessibile, molto innovativa da quel lato, abbiamo parecchie idee su come cercare di spingere il prodotto senza essere invasivi, con molta tranquillità, non chiediamo grossi volumi, non chiediamo assolutamente niente. Con noi è tutto molto easy, il commercio del nostro prodotto. Noi offriamo tante opportunità ai clienti nel senso che a livello di disponibilità di merce, pagamenti eccetera, abbiamo, come dire, siamo molto flessibili. Certo, si spianca come partner, non come fornitore. Esatto. Va bene, per chi volesse consolidare o sviluppare il proprio business quindi in ambito mobile, queste sono le soluzioni, i prodotti che offre Life 365. Ringraziamo Francesco Pagano, responsabile della divisione mobile di Life 365. Grazie Francesco. Grazie a voi e alla prossima iniezione. Ci vediamo al prossimo video, grazie.